L'accessorio che non passerà mai di moda è sicuramente il velo. Vanta tradizioni secolari e ha assunto significati diversi nel corso degli anni. Oggi ha per lo più un valore estetico e si indossa per dare il tocco finale all'abito della sposa. I veli si possono classificare in base alla loro lunghezza. Il velo corto, che ha una lunghezza massima che arriva all'avambraccio ed è indicato per le spose che indosseranno un abito un po' più vintage. Il velo lungo, più semplice, con un bordino in raso, con calata, che si indossa durante l'ingresso della sposa in chiesa. Oppure, per impreziosire di più l'abito, si può utilizzare un velo con un bordo in pizzo. In ogni caso, qualsiasi sia la scelta, dà sicuramente il tocco romantico al look nuziale.